Buongiorno a tutti, mi conoscete, il mio ruolo tecnico è quello di certificare la regolarità del voto e quindi vi do dei numeri e dati tecnici. Gli aventi diritto che possono esprimere il voto ammontano a 119.570, il sistema è partito regolarmente, la procedura di voto alle 10 e vi do un dato statistico che secondo me è importante, in 5 minuti hanno espresso il voto 2.800 aventi diritto. Adesso io sono in plancia di comando, controllo la regolarità e il funzionamento di tutta la procedura e vi darò i risultati al termine della votazione. Grazie.